Stanotte, nella tarda serata di ieri, JJ4 è stata catturata con la cosiddetta trappola tubo, che è una metodologia a noi conosciuta per catturare gli animali. Ora si trova in un centro nostro ad hoc in cui vengono tenute le situazioni problematiche degli animali. Nella giornata di ieri abbiamo consegnato al TAR la documentazione che ci aveva richiesto per integrare la nostra ordinanza di abbattimento e ora attenderemo le decisioni del TAR per procedere nella direzione dell'abbattimento che è questa nostra volontà. Una vicenda tragica, cos'è che non ha funzionato o che si potrebbe migliorare? Occorre far tornare il progetto alle sue origini. Originariamente il progetto parlava di una cinquantina di esemplari che sarebbero stati in Trentino e che si sarebbero dispersi sull'arco alpino. Questo non è avvenuto, sostanzialmente ne abbiamo più di un centinaio e sono tutti in Trentino. Oltretutto con quelli anche pericolosi, che sono quelli pericolosi che abbiamo catturato e stiamo catturando hanno le loro problematiche. Occorre tornare al progetto originario. Non sarà sicuramente facile, ma di questo abbiamo discututo e discuteremo con il Ministero. Avremo un incontro tecnico nei prossimi giorni con il Ministero competente e capiremo quali sono gli spazi. Io non credo che ci sia divisione tra la popolazione e la popolazione trentina, diciamo, è molto unita su questo. Ma credo che anche fuori, al di là, diciamo, di chi ha una ideologia animalista per forza, poi anche nella popolazione italiana ci sia chi capisce la problematica e la guarda nella sua concretezza e che quindi sostanzialmente poi condivide il nostro percorso. Grazie a tutti.